come io te dà un passo qui a prendersi e la parte di un lato è vieni come l'aria non si riusciti a te però non è un moti se la no 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 ah basta ah si deve l'abbiamo ah da ah balic ah balic balic ah ah balic ah ah palic he baric ah ah balic ah ah good balic ok l'abbè giù panggol i panggol 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 anna jiva staff a w panggol panggol paggol panggol a panggol panggol giuro ho ah 1 quando 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 guirm الي laughing Puff! Giordina spartare, prendi una spartare La faf, la di petto, andiamo La piaccia, pass Ah, pass La inizia spartare, noi spartare, quando si impagano organisationsi spartare, pass Pass All inizia spartare, pass Ok, pass Ok, pass Ok, pass Ok, pass Ok, pass Ok, pass Aspett Si pass Pass with disrompe un portone i non sono qui ok un portone facciamo una volta ok un altro stai un portone non è più un portone Sì, 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 sì. now one ah 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 I go I go I go I go ti sorry i cagli tu 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 je tu ok s-b bench ah ah 5 2 uh 2 1 1 2 3 2 1 Un'altra Marta ah, hai bo non a star ah, bagi da wala e brah brah da brah, da' dimosso unggap parma 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 per un argente aspetta il minuto e it's gonna finish parma one what do you think is gonna finish? ah or oh ah ah vai i su i su i su indiet uh ah go no no an tutti che stanno 4 1 2 1 3 la 3 e e Grazie.